Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, porca porca, ma cosa ve lo dico a fare? Lo sapete di già, è uscito qualche ora fa il primo teaser ufficiale della stagione numero 8. Incredibile ragazzi, e quindi il video di oggi sarà dedicato, oltre che al teaser della stagione numero 8, alla sua analisi. Quindi ragazzi, vedremo un sacco di teorie con dei richiami super interessanti da parte direttamente degli sviluppatori di Epic Games che qualcosa avevano già tralasciato, diciamo, lasciato, ecco, lasciato nei commenti di Reddit. Parleremo anche, ovviamente, di un bel po' di leaks che vi faranno leccare i baffi. Ringrazio tutti per utilizzare ragazzi nel vostro shop il mio codice XIUDERONE. Grazie davvero per il grande supporto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna news sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi, la domandina. Ve la devo fare raga, la domandina. Ci tengo tantissimo che i vostri commenti li postiate proprio qui sotto e rispondiate a questa domanda molto interessante. Cos'è la cosa più bella che vorresti nella stagione numero 8? La cosa più bella, una roba, se potessi decidere. Cosa vorresti? Io, ragazzi, nella season 8 vorrei poter utilizzare nel gameplay l'acqua. Mi piacerebbe davvero tantissimo. Quindi combattimenti anche acquatici. Non lo so, è una mia idea, ragazzi. Ditemi la vostra qua sotto, nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance. Si va, si va, si va. Andiamo subito, ragazzi, a vederlo. Eccolo qui, l'avete visto anche voi. Sicuramente il teaser ufficiale. Quindi la prima immagine rilasciata nella pagina Twitter di Epic Games alle ore 16 di ieri, come è solita fare Epic Games qualche giorno prima dell'avvento delle nuove season. Vediamo un attimo, ragazzi, questa immagine in un modo un pochettino diverso. Ho sistemato un pochettino i colori. E beh, ragazzi, è inutile che ce lo nascondiamo. Quello lì è proprio un uncino. Non può essere un disegno fatto a caso. Si vede chiaramente l'uncino in quell'ombreggiatura che va a terminare appunto con il supporto che si collega al braccio. Questo che cosa ci fa pensare? Eh, ragazzi, si potrebbe seriamente parlare di pirati. Perché l'uncino io lo associo ai pirati. Penso che tutto il mondo lo associ ai pirati. Girano anche alcune voci, ragazzi, per il quale eliminando questa parte sopra di me del l'uncino immaginate che io adesso ci metto sopra una mano la parte che rimane diventerebbero dei denti di drago. Non vi faccio vedere l'immagine perché secondo me è un po' fuorviante. Nel senso vi toglie dalla concentrazione di questa immagine. È un po' forzata. Quindi io non parlerei di draghi. Ma invece voglio farvi vedere un bellissimo concept fatto da qualcuno in giro nel web. Come vedete, la parte colorata è l'immagine che abbiamo visto prima e hanno deciso di aggiungere alcune parti che potrebbero essere inerenti all'immagine. La prima, Fireball o comunque Sun. Come vedete, ragazzi, la fine dell'immagine fa vedere un po' di fiamme e quindi c'è ovviamente anche il colore rosso. Lo va a richiamare un chiaro riferimento al fuoco. Ma ci fanno vedere anche che risaltando il contrasto dell'immagine originale si possono vedere anche delle crepe. Dove c'è scritto Crack's Hand. Potrebbe essere una mano. Potrebbero essere delle crepe. In alto a destra invece, ragazzi, dove c'è scritto Fortnite Season 8 si può chiaramente vedere una porzione di mappa. Potrebbe essere, ragazzi, la nuova... Nuove parti della mappa presenti. E ipotizzano invece che quell'angolino là in basso a destra sia il muso di un lama. Una teoria che a me è piaciuta, ma ragazzi... Mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo perché devo farvi vedere una roba, raga. Questa è cattiva, raga. Questa è cattiva. Allora, voglio subito dirvi una cosa. Non è ufficiale, ok? Questo è un concept fatto da un grande leakers mondiale e mi piace un botto, nel senso... Mi piace un botto perché fa paura e panico, nel senso... Come vedete ci sono due uncini, quindi un'immagine speculare che va a formare quasi un teschione, quindi anche il teschio. Si va a richiamare ai pirati e anche le news ufficiali che parlano di un punto X. E il punto X è sempre associato a un tesoro e quindi ai pirati. Possiamo vedere anche sotto il mare con dei tentacoli che escono e quindi si parlava già di Kraken ma sono arrivate anche il mini Kraken quello presente nel piccone delle skin dei sommozzatori. Insomma, ragazzi, è sotto la roba più interessante. Sicuramente ne avrete sentito parlare, ragazzi, le palme. Eh già, perché si parla di una nuova location. Nella mappa si parla, ragazzi, o meglio, non è che si parla, lo dice Eric, Epic Eric, che è praticamente il capoccione insieme a Donald Mustard dei progetti in sviluppo da parte del team di Epic Games. Gli chiesero qualche giorno fa Puoi definire con quattro parole la stagione numero otto su Reddit? Risponde in questo modo. Uno, bananas. Uno, bananas. B, bananas. Quattro, bananas. Che cosa vuole dire, ragazzi? Beh, la teoria che vi voglio dire è sicuramente molto interessante. Intanto lui parla di banane, nel senso. E le banane le abbiamo nel pass battaglia. Le abbiamo proprio a livello 70. Si chiamano banane congelate in italiano, ma in inglese si chiamano semplicemente banane. Lo sappiamo, ragazzi. A Epic Games piace spoilerare nel pass battaglia quello che succederà nella stagione successiva. Lo ha sempre fatto. Queste banane, ragazzi, come vi stavo dicendo poco fa, andiamo un attimo a vedere la particolarità. Perché scrive B, bananas, quattro, bananas. Non è che potrebbe essere una coordinata? Beh, ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Questa è la parte di mappa, il quadratino inerente a B4. Avete capito dove si trova? Ve lo faccio vedere meglio. Si trova praticamente nella foresta che c'è proprio alle spalle del Parco Pacifico. Quella dove, praticamente, sopra di me in fondo ci sono montagnole e di là, di là c'è il Parco Pacifico. Sembrerebbe che questa zona verrà completamente modificata e al suo posto potrebbero arrivare delle palme o comunque una foresta esotica. Una nuova location. Andiamo avanti, ragazzi, e come vi anticipavo prima, la X segna il punto. Un tesoro appare. Il bottino che perdi potrai ritrovare. Quattro giorni alla Season 8. Qua, ragazzi, alla vostra interpretazione la notizia ufficiale che è apparsa. E, tra l'altro, alcuni utenti hanno già trovato sparsi per la mappa alcuni simboli che recano delle X. Qua siamo al nord della mappa dove sulla parte rocciosa che dà sul mare è stata trovata una X. Qua, invece, siamo nei leaks, quindi nei codici del gioco. Ed è stata trovata una nuova X che potrebbe andare a sostituire alcune texture del terreno. Non voglio portarvi via altro tempo. Vi pa... Le terremoto news, ragazzi, è apparsa la diciannovesima crepa intorno alle 23 di ieri sera che si trova nel deserto dove c'è la gelateria. E per chiudere in bellezza, ragazzi, lo sapete meglio di me, Bosco Blatterante sta morendo. Purtroppo la terra comincia a farsi bruciata, l'erba comincia a terminare e a scomparire, lasciando quindi lo spazio alla terra arida e bruciata. Staremo a vedere, ovviamente, cosa dovremo aspettarci. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Super like, condividetelo con i vostri amici. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!